Quale tecnica è fondamentale per montare dei video che spacchino? Lo slow motion, ma per farlo bisogna rispettare determinate regole. Oggi sono qui per insegnarti a rallentare, velocizzare o frizzare o mettere in reverse le tue clip. Se non mi conosci sono Gianmarco Capri, filmmaker e fondatore di Montalo, la community per chi ama realizzare contenuti video e l'academy per chi vuole diventare un professionista di questo settore. Ma prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella per tutti gli aggiornamenti. Entriamo dentro per me. Per lo slow motion la prima cosa da fare è controllare il framerate delle nostre clip. Qui abbiamo delle clip girate a 50 fps all'interno di una timeline che invece è di 25 fps. E qua capiamo la prima regola fondamentale. Per realizzare uno slow motion fluido servono fps in più. Il valore del framerate della nostra clip deve essere maggiore degli fps della nostra timeline. Possibilmente si dovrebbe girare in high frame rate per avere un grande effetto di rallentamento. Quindi un valore in fps piuttosto elevato. 100, 120, 240. Ma già a 50 fps abbiamo un buon slow motion. Ecco perché oggi utilizzeremo clip a 50 pitt. Voglio dimostrare che anche con questo valore in framerate si può ottenere un buon slow motion. Ma qui sorge spontanea una domanda. Come faccio a scegliere la giusta percentuale di rallentamento delle mie clip? Con un calcolo super semplice. O si prendono gli fps della clip e si dividono per gli fps della timeline. Quindi 50 diviso 25 uguale 2. Ossia un mezzo la metà. Quindi il rallentamento può essere fatto fino al 50%. Oppure il contrario si prende il valore in fps della timeline. In questo caso 25. Lo si divide per 50 gli fps della clip e si ottiene 0.5. Ossia 50%. Il calcolo è super semplice. Ma andiamo in play la nostra clip girata a 50p nella nostra timeline a 25 fps. Per rallentarla è molto semplice. Utilizziamo il comando speed duration. Quindi click destro, speed duration oppure ctrl r per utilizzare la shortcut. Nella prima parte della finestra dove leggete speed scriviamo 50%. Abbiamo già fatto il calcolo. Diamo ok ed il gioco è fatto. Abbiamo messo subito in slow motion la nostra clip. Veramente facile. Ovviamente all'interno di questa schermata ci sono altre opzioni. L'opzione duration lavora sulla durata della clip. Io la utilizzo ad esempio quando so che una clip mi deve durare un certo tempo. Potrebbe essere ad esempio un timelapse. Vado qui, so che questa clip mi deve durare ad esempio 10 secondi. Scrivo 10. Do ok. E magicamente la clip mi viene rallentata. Lavorando sulla duration viene impostata una percentuale che non fa più conto del calcolo preciso che abbiamo fatto. Infatti qui viene scritto 26 e 59. E se io volessi mettere tutto il reverse? Niente di più facile. Utilizziamo sempre lo speed duration e attiviamo la spunta su reverse speed. Abbiamo messo il reverse, la nostra clip. Sempre super facile. Però ovviamente all'interno di questa schermata ci sono due comandi interessanti. Quello dell'audio pitch e il ripple edit. Per capire l'audio pitch riportiamo il materiale originale in timeline. Quindi F per utilizzare il match frame. Portiamo di nuovo giù la nostra clip. Questa volta al di sotto della nostra clip abbiamo anche l'audio. Se io seleziono entrambe e vado su clip speed duration e rallento la mia clip del 50%. Anche l'audio verrà rallentato del 50%. E inevitabilmente questo cambierà il pitch. Capire il concetto di pitch in realtà è molto semplice. Se vado a rallentare la mia clip la tonalità si abbasserà. Ottenendo un risultato simile a questo. Al contrario. Se la mia clip verrà velocizzata ovviamente la tonalità diventerà più alta. Quindi otterremo un effetto molto più simile a questo qui. Il maintain audio pitch quindi ci aiuta quando dobbiamo rallentare una clip. E dobbiamo mantenere la tonalità più vicina possibile all'originale. Quindi gli diamo ok. Ed ecco qui. Questa linea rossa. Allarghiamo la traccia. Ce lo mostra e ci dice che è attivo proprio questo comando. Il maintain audio pitch può servire anche quando dobbiamo velocizzare una clip. Ora abbiamo parlato solo di slow motion. Ma è ovvio che se io vado a mettere la mia clip al 200%. Invece che al 50% otterrò un effetto di velocizzazione. A questo punto ci manca un ultimo comando ossia ripple edit. È un comando super utile. Qui c'è una clip che è al 100% vicino ad altre clip che sono state montate. Se io la volessi mettere in slow motion che cosa succede? Facciamolo. Mettiamola al 50% e diamo invio. In timeline non è cambiato nulla. Il taglio è sempre lo stesso. Ma ragionando io so che la mia clip in slow motion dovrebbe durare il doppio. Quindi che cosa significa? Il taglio non si è spostato. Non avrò l'equivalente in slow motion quindi al 50% della velocità dell'originale. Ma sarà esattamente la metà. Ecco perché il buon premier ci mette a disposizione il ripple edit. Quindi torniamo indietro. Vado su speed. Questa volta attivo il ripple edit. Metto la mia velocità al 50% e le clip rimanenti sono state spostate in modo tale che questo rallentamento che in realtà duplica la durata della mia clip visto che è al 50% potesse avvenire correttamente. Una bomba. Ma non abbiamo ancora finito. Nella parte finale di questa finestra c'è una voce chiamata time interpolation. Avete presente quella formuletta che abbiamo visto poco fa per ottenere degli slow motion fluidi? Ecco può capitare alle volte di non avere fps sufficienti quindi in questo caso è possibile ricorrere a delle funzioni che premier ci mette a disposizione per simulare in post lo slow motion. Vediamo quali sono queste funzioni nel dettaglio ma con la consapevolezza che uno slow motion simulato non sarà mai come uno slow motion fatto bene secondo le regole. Prendiamo questa clip girata a 25 fps e proviamo ad ottenere un rallentamento del 50% come se questa fosse girata a 50p anche se avrete capito che non è una cosa che mi piace tanto. Andiamo su clip speed duration disattiviamo il ripple edit mettiamo la nostra velocità al 50% e vediamo le tre opzioni che abbiamo frame sampling frame blending e optical flow. Il frame sampling lavora creando delle copie di fotogrammi simulate ovviamente dove mancano. Vediamo come funziona diamo ok e il risultato non è dei migliori perché la macchina va a scatti in realtà io con il frame sampling ho avuto sempre questa tipologia di problemi ossia mi va sempre e comunque a scatti. Clip speed duration questa volta utilizziamo un altro comando ossia il frame blending. Il frame blending è praticamente la stessa cosa del frame sampling ma questa volta va a utilizzare delle dissolvenze incrociate molto rapide tra i vari frame per cercare di fonderli insieme. Mettiamo la velocità al 50% frame blending diamo ok. La situazione è leggermente migliorata si vede qui bene il concetto che vi dicevo della dissolvenza qui sulla macchina in movimento anche in questo caso lo slow motion simulato non funziona. Quindi proviamo l'ultimo metodo ossia l'optical flow. Quindi siamo tornati indietro speed al 50% e utilizziamo l'ultima voce del menu. L'optical flow è quello più elaborato perché va a creare dei frame simulati dove serve e li gestisce in maniera molto più complessa rispetto ai due precedenti ed è quello che solitamente garantisce i risultati migliori. Se proprio non potete rinunciare a quella clip in slow motion e non avete gli fps sufficienti il mio consiglio è di usare l'optical flow che però va sempre testato. Ovviamente è molto importante anche renderizzare la timeline quando utilizzate l'optical flow perché quella visualizzazione a scatti magari non dipende da questa funzione ma proprio dal vostro render. Ora che abbiamo visto come rallentare, velocizzare e mettere in reverse una clip ci manca solo il freeze frame. Riprendiamo la nostra clip iniziale, andiamo avanti, mandiamo in play, scegliamo un punto. Eccolo qui, clic destro e scegliamo frame hold options. Questo ci permetterà di creare un frame hold, ossia un freeze frame. Andiamo a scegliere qua dove leggete source timecode la voce play add. In questo modo sapremo che dove abbiamo posizionato il nostro indicatore verrà creato un frame hold. Diamo ok ed il gioco è fatto. La clip è stata frizzata completamente però prendendo come riferimento il punto che avevamo scelto. Fino ad ora abbiamo parlato di slow motion in maniera abbastanza tranquilla. Clip rallentate, velocizzate, clip reverse, freeze frame. Ma non abbiamo ancora affrontato quella tecnica che vi permetterà di fare dei video slow motion fighissimi. Sto parlando delle speed ramp. Ma cosa sono le speed ramp? Le speed ramp sono delle semplici variazioni di velocità che sicuramente avrete visto. Avrete presente quando il video va veloce e poi subito rallenta e diventa in slow motion? Quella è una speed ramp. E su Premiere abbiamo due modi per realizzarle. Uno più basic e uno più elaborato. Partiamo da quello più semplice, ossia attraverso dei tagli. Abbiamo detto che una speed ramp è una variazione di velocità. Troviamo un punto che vogliamo rallentare. Ecco da qui. Da qui noi vogliamo che la nostra clip vada in slow motion. Quindi io ho effettuato un taglio. Vado su clip speed duration, metto la mia clip al 50% ed ecco che ho realizzato la mia rampa. Magari se metto questa parte al 150% l'effetto ovviamente sarà ancora maggiore. Strimmo un po' qui. Veloce, lenta. Eccola qui. Torniamo alla nostra clip al 100% della velocità e facciamo clic destro dove leggi FX. E in questo nuovo menu andiamo su time remapping e scegliamo speed. In questo modo abbiamo abilitato la possibilità di lavorare direttamente sulla velocità della nostra clip da questa barra bianca che vedi qui. In timeline, come vedi, se la porto verso l'alto la velocità, la percentuale aumenta. Se la porto verso il basso, la velocità rallenta. Andiamo qui, selezioniamo il pen tool oppure schiacciamo P, molto più comodo, e realizziamo la nostra speed ramp. Vado qui sul segmento bianco, la mia penna cambia, c'è un più, quindi posso aggiungere un control point. Da questo momento in poi questa parte può essere gestita indipendentemente da quest'altra, sempre in relazione alla velocità. Quindi di nuovo, selection tool con V. Eccola qui. E vado ad aumentare la velocità della mia clip. Portiamola più o meno al 250%. La differenza dei tagli è che qui ovviamente possiamo andare a lavorare sulla transizione, ossia sulla variazione della velocità. Andiamo ad allargare la nostra taccia per vedere meglio. E come vedi qui c'è una nuova icona che io posso tranquillamente aprire in questo modo. Clicca e drag ed ecco qui ho creato la mia variazione di velocità. In questo modo, sono tornato indietro, non c'è variazione. Si passa dal primo valore al secondo. Come avviene con i tagli? Ma in questo modo, draggando la mia maniglia, posso andare a creare una variazione di velocità. In questo modo, passa dal valore di speed più alto a quello più basso in modo lineare, quindi sempre alla stessa velocità. Ma io andando a lavorare qui, su questa handle, posso fare tutto ciò. Creare lo stesso effetto che si crea normalmente attraverso i fotogrammi Easy Ease. Si può decidere la forma della curva che più si vuole. Tra l'altro, si può gestire anche la lunghezza di questa variazione. Più vado ad allungare la mia handle, più questo passaggio sarà morbido. Alle volte può servire una rampa molto secca, molto dura, molto rapida. Oppure si può decidere di ottenere un effetto molto più morbido. Ma non abbiamo ancora finito. Prima di lasciarvi, voglio parlare di un'altra funzione molto utile, soprattutto in due casi abbastanza comuni. Quando dobbiamo montare un video a FPS misti, quindi materiale a 25, a 30, a 100, a 50, che magari ci è stato dato perché non abbiamo girato noi. Oppure c'è stato un errore, quindi è stato girato con FPS diversi. E noi ovviamente dobbiamo trovare una soluzione. Oppure quando sappiamo che quel video sarà tutto in slow motion. Questa funzione si chiama Interpret Footage. Torniamo all'interno del nostro Project Panel, dove troviamo tutte le nostre clip girate a 50 FPS. Selezioniamo le prime 4 e facciamo tasto destro, Modify, Interpret Footage. All'interno di questa schermata alla voce Frame Rate, invece di selezionare Use Frame Rate from File, 50, significa che in automatico Premiere sta utilizzando il frame rate dei nostri file video, ossia 50 FPS. Selezioniamo Assume this Frame Rate e andiamo a scegliere 25 FPS. E come vedete, le clip che sono qui non sono più a 50 FPS, ma a 25. Ciò significa che se io le vado a portare all'interno della mia timeline, la mia clip sarà già in slow motion. E questo mi farà risparmiare tantissimo tempo. E anche oggi abbiamo finito. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, scrivimi nei commenti le tue domande e le tue curiosità e non dimenticarti di iscriverti al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!